Ed eccoci sempre in diretta dal Tana delle Tigri ed ecco qui con noi Michele, Michele Lamassad, come gli ho detto prima, sbaglio sempre il suo cognome Parto con questa domanda, di che il tuo cognome non è italiano giustamente, di che origine hai? Mi l'ho chiesto un po' che è di origine egiziana, mi fanno egiziano, mi fanno italiano, è uscito questa croc Che per noi blogger è complicatissimo, comunque partiamo subito, come mai sei venuto qui al Tana delle Tigri? Sono uno dei giocatori di Naisen, quindi non potevo non esserci, il nostro torneo è un piacere, un amore, un divertimento, anche il lavoro Naturalmente hai giocato anche il primo torneo che si è disputato a maggio Sì, ho fatto il formato ieri, l'ero bene, sono arrivato quinto, siamo 150, ovviamente a fare una stable Un po' di fortuna ci vuole in un bordo perché ho trovato la persona che conosco al passo nel momento che ci vuole Però mi sono piazzato e niente Invece nel torneo quello che avete disputato a maggio, com'era andato sempre il Tana delle Tigri? Torneo di maggio, fammi pensare, non mi ricordare No, niente di che, a maggio non ho toccato palo Mi era portato molto bene, poi mi ricordo, anzi mi ricordo proprio perché Nel giro di due livelli sono morto, quattro volte avevo top player, il mio avversario aveva progetto di colore e quattro volte hanno legato colore Un torneo da dimenticare? Sì, quello veramente, infatti mi sono ricordato questa cosa che avevo rimosso, era meglio rimuovere Oltre qui, naturalmente, al Tana delle Tigri, quali sono altri tuoi tornei live in cui pensi di andare a giocare? Ma quest'anno resto in Italia, quindi faccio le ultime tappe IPT e i Poké Graffini Invece per il 2010? Ah, probabilmente ci devo pensare, vado a Charme Shake a novembre, è una delle tappe che forse faccio Invece per il 2010? Il 2010, vabbè, ci saranno due grossi tornei in Italia, che sicuramente le IPT di Sanremo Poi forse fanno due IPT di Abilanzo, non so se lo rifanno, se lo rifanno faccio sicuro Poi vedremo Naturalmente Gli altri IPT, le altre Tana delle Tigri Non ti vedremo invece nessuna tappa delle IPT? Tra il Sanremo? E il IPT, a parte Sanremo, non lo so, devo vedere con lo spot E invece, diamo un piccolo sguardo sulla questione italiana del gioco live Cosa ne pensi della chiusura per il momento di tutti i circoli aspettando questo circolare dell'Amsk? Che tarda da arrivare? Sicuramente dal punto di vista dei giocatori è stato un problema, soprattutto per quelli che giocavano esclusivamente nei circoli Comunque si sono visti togliere il loro divestimento settimanale, che non era nulla di pericoloso Però effettivamente lo Stato era diventato ingessibile perché avrivano tantissimi circoli in cui si ciava cash illegalmente In cui non arrivano a pagare le tasse Quindi una legislazione, se arriva in maniera depressiva e se si riesce a organizzare tutto in maniera da permettere di nuovo alle persone di giocare nelle proprie città Spero sia positivo, però in questo momento c'è un vuoto legislativo, c'è un vuoto anche per le persone che giocano Comunque si sono visti togliere il loro divestimento Parliamo invece di poker online, naturalmente tu sei un testimonial di Nightstand Raccontaci, parlaci un po' di Nightstand, questa poker room tutta italiana Nightstand è un progetto, diciamo, anzi sicuramente unico del suo genere Perché comunque è un gruppo di giocatori che mette su una poker room affrontando tutta la questione economica Poi la questione burocratica, la questione della creazione da zero del software In più, comunque affrontare un mercato così complicato perché ci sono dei colossi E sicuramente è stata un'impresa che quando siamo partiti non avremmo mai detto di riuscire a realizzare Invece che adesso ci siamo, siamo uno degli otto competitor italiani su questo settore Un settore grandissimo in crescita Qualche novità di Nightstand per il futuro? Beh, sicuramente stiamo crescendo, quindi arriveranno dei tornei molto più grandi Con dei garantiti Poi partirà il VIP System, in cui comunque permetterà di fidelizzare i giocatori dando dei premi E tu sei più un giocatore live o online? Ma, totalmente online Live è una piccola percentuale del mio gioco Quindi, essendo giocatore, un giocatore online ti chiedo invece Cosa ne pensi del poker cash che sta per sbarcare ormai in Italia? Non potevamo non averlo, anche perché comunque gli italiani che vogliono giocare cash Sanno dove giocare nei titi in un punto.it Quindi era un altro vuoto legislativo Ma per te come giocatore? Un altro vuoto legislativo è stato colmato Per me come giocatore sicuramente giocherò cash sui punto.it Sicuramente ci sarà tanto da giocare Ci sono tanti fici nuovi da incontrare? Tanti fici nuovi, ma sono convinto che bisogna battere il ferro finché è caldo Perché i giocatori impareranno adesso come è successo con il Set & Go Il Set & Go all'inizio è stata una miniera d'oro Che poi però si è rallentata Adesso diciamo che nei tit di alto livello In tutte le poker room.it è molto difficile vincere Ok Michele, ti ringrazio Ti faccio riandare Naturalmente Michele giocherà il Day 1B Domani qui sempre da Nova Goriz E lo seguiremo con un'occhio di attenzione Ciao Michele, grazie Ciao Ciao